Ma guardi, bisognerà in primo luogo capire che significa Forza Italia, nel senso cioè che io mi tengo lontano dalle sigle. So che Forza Italia del 94 era un partito nuovo, che aveva una dialettica interna molto intensa, che rappresentava una certa fase della società italiana. Ora, fortunatamente o meglio purtroppo, tra il 94 e il 2013 sono passati tanti anni, quindi un nome non è che blocca il film. Il film, diciamo così, è andato avanti nel bene ma anche nel male e quindi dobbiamo rivedere oltre che il titolo anche i contenuti e la regia.